cari amiche e cari amici all'ennesima persona che mi chiedeva ma tu sei cattolico un amico ha risposto perché non rispondo più perché non posso passare la vita a rispondere a queste persone che fanno la stessa domanda però gli ha risposto un amico e dice leggi la parabola dell'esorcista estraneo che adesso vado a leggervi e che dedico a pietro paolo trinità questa volta seriamente e ai cooperatores veritatis chi non è contro di noi è per noi marco 9 38 40 in quel tempo giovanni disse a gesù maestro abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome volevamo impedirglielo perché non ci seguiva e gesù disse non glielo impedite perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me chi non è contro di noi è per noi e qui adesso c'è il commento di un gruppo cattolico il papa boy il titolo è si può essere di cristo senza appartenere al gruppo dei dodici maestro c'era uno che scacciava i demoni e volevano impedirglielo perché non era dei nostri un uomo che liberava altri dal male e li restituiva alla vita viene bloccato dai seguaci di gesù giovanni si fa portavoce di una mentalità gretta meschina fatta di barriere di muri per la quale non conta la vita piena dell'uomo e il vero progetto di gesù ma la difesa identitaria del gruppo e il loro progetto deviato mettono quindi l'istituzione prima della persona la loro idea prima dell'uomo il malato può aspettare la felicità può attendere ma la bella notizia di gesù non è un nuovo sistema di pensiero è la risposta alla fammi di più grande vita il vangelo non è una morale ma una sconvolgente liberazione infatti gesù sorprende suoi chiunque aiuta il mondo a liberarsi e fiorire è dei nostri semini amore curi le piaghe del mondo custodisci il creato allora sei dei nostri sei amico della vita e allora sei di cristo quanti seguono il vangelo autentico senza neppure saperlo poiché seguono l'amore si può essere di cristo senza appartenere al gruppo dei dodici e si può essere uomini e donne di cristo senza essere uomini e donne della chiesa perché il regno di dio è più vasto della chiesa non concide con nessun gruppo allora impariamo a godere ea ringraziare del bene da chiunque sia fatto cari cooperatore severitatis e pietro paolo trinità vi offro questa meditazione pasquale un sincero auguro comunque a tutti voi cooperatori e pietro paolo trinità e una buona pasqua ciao